All'indomani delle dimissioni del primo cittadino di Bolzano e a seguire quelle del suo vice, Klaus Ladinser, prende la parola l'antagonista del sindaco del capoluogo Alessandro Urzì di Alto Adige nel cuore, che alle elezioni comunali dello scorso maggio era andato al ballottaggio proprio con Luigi Spagnoli. Certo, si potrebbe dire che forse abbiamo vinto noi alle ultime elezioni, però oggi c'è da incardinare questa vittoria in un progetto politico che serva a restituire a Bolzano una governabilità e lo bisogna fare con tutte le forze che hanno voglia di mettersi in campo per il bene, non per bloccare, non per congelare lo sviluppo, ma per permettere di dare risposta ai cittadini. Ora mi aspetto che ci sia una coalizione, la più ampia possibile, la più forte possibile, che scelga il proprio candidato o la propria candidata sindaco di Bolzano, perché questa deve essere la sfida della città. In primo luogo il progetto, cioè sapere esattamente che cosa si propone alla città, invece qui si è partiti con, lo si è visto con il sindaco Spagnoli, che ha pagato il prezzo dell'incapacità, dell'inconsistenza della propria coalizione, con l'opposto, prima si è fatto il sindaco, poi si è visto che cosa potrà fare il sindaco, nulla. Alto Adige nel cuore dunque si sta muovendo, ma soprattutto Alessandro Ruzzi, che oggi ha tenuto proprio in municipio a Bolzano una conferenza stampa incentrata sul futuro politico del capoluogo, cercando di comprendere con quali forze politiche aprire un dialogo in vista della possibile chiamata le urne a maggio 2016. C'è bisogno di dare entro allora delle chiare prospettive e visuali. Una cosa, una sfida fondamentale la dobbiamo accogliere, quella della riforma della legge elettorale. È passato inosservato a tutti, ma ieri, mentre il sindaco si dimetteva, in commissione legislativa in regione a Trento si parlava di riforma della legge elettorale, perché è evidente che le prossime elezioni dovranno passare per questo passaggio, che non è, come potrebbe essere avvertito da qualcuno tecnico, ma che serve a costruire le condizioni di una governabilità. Attenzione però, che qui sarà un po' un banco di prova democratico per tutte le forze che dovranno contribuire a questa riforma, perché se si pensa di fare azioni, come dire, di fine tecnicismo per precostituire maggioranza a proprio uso e consumo, ebbene scoprirà la terza guerra mondiale.